Scrive nei social non mordere mai il tuo gioielliere mentre ti fa i denti nuovi e riceve una pioggia di critiche. Achille Costacurta sfoggia sui social una dentiera di diamanti. Il video diventa virale ricevendo innumerevoli critiche. Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari già in passato era stato al centro di polemiche tra gli insulti alla madre. I filmati con alcune bustine con una polverina rosa pubblicate sempre sui social e i problemi di rabbia che lo avevano portato anche a dare un pugno a un vigile. Non mordere mai il tuo gioielliere mentre ti fa i denti nuovi scrive nel video Achille Costacurta aggiungendo al testo le emoticon di una sirena della polizia e di un cartello di pericolo. Il filmato dura giusto pochi secondi in cui viene mostrata questa dentiera per la quale come copy viene messo il simbolo del diamante. Nel contenuto caricato su TikTok il figlio di Billy si geolocalizza a Milano in zona Duomo. In due giorni il video di Achille Costacurta ha superato le 800.000 visualizzazioni con tanto di 3823 mi piace, 317 commenti, 331 salvataggi e 298 condivisioni. Tutte metrics che indicano la viralità del contenuto. Viene da chiedersi però a quale costo, leggendo i messaggi non certo di complimenti che ha ricevuto. C'è chi lo invita a svolgere attività considerate più utili, pensasse di andare a fare volontariato in Africa. Vanno figli di gente molto più ricca. Chi resta allibito, se questo è il nuovo che avanza siamo a cavallo. Chi cerca di interpretare il video, forse l'amico studia odontoiatria e quindi l'impronta la sa prendere. Poi una spruzzata di brillantini e il gioco è fatto. E chi fa un'esortazione al padre, non gli può fare un'entrata vecchio stile che i denti poi se li fa davvero. Nuovi. Si fa davvero fatica a trovare qualche commento positivo, solitario come un faro in mezzo al mare si trova. Dai, non dategli sempre addosso. È un ragazzo, ora stanno scherzando.